Giuseppe Reste, commentiamo i dati elettorali. Buongiorno a tutti e bentrovati. Il dato elettorale è evidente che c'è stato uno tsunami, un ciclone 5 stelle che era prevedibile, prevedibilissimo. Io l'ho palpato specie nelle ultime ore. La gente era convinta, ritornava al seggio per votare, nonostante non era abbattuta dalle lunghe code e questo denotava la convinzione del voto. Bisogna prenderne atto che ha prevalso la delusione e la rabbia nei confronti di un precedente governo che comunque ha messo in ginocchio il paese e quindi la gente vuole un reset e vuole mettere alla prova questa nuova forza politica. Speriamo bene per il futuro, per i nostri giorni prossimi futuri. Tanti gli elettori che hanno votato Forza Italia e quindi sostenendo la sua candidatura al Senato. Questo mi ha fatto piacere, mi onore. Il risultato elettorale a Ceglie Messapica è stato ben chiaro. Forza Italia si conferma la prima forza politica del paese e questo non può che farmi piacere. Quale sarà l'impegno di Giussi Resta? Il mio impegno sarà sempre e unicamente, come ho sempre fatto, quello di stare vicino alla gente, di ascoltarlo. Sarà un impegno anche all'interno del partito. Mi propongo di portare avanti queste istanze, le istanze dei cittadini, dei miei concittadini. La mia più grande vittoria è quella di aver rappresentato in questa campagna elettorale una speranza proprio della gente che quotidianamente incontro. Questo sarà il mio impegno, fortissimo.